Uzi a molla, del marcato interamente con loghi originali, ambedue le parti, caricatore estraibile tramite pulsante metallico, capienza al caricatore, oltre 100 colpi. Alla doppia sicura, sia posta sulla base del carrello, che è in metallo, sia sul retro. Se non si preme questa, il grilletto non spara. Questo è il sistema d'armamento, se non premo la sicura non spara, se premo la sicura, il colpo parte. Ha un attacco metallico sul retro, questa parte qui è metallica, per agganciarlo eventualmente. Grilletto metallico, asta d'armamento metallica, molla interna metallica. Ha una capienza di 132 colpi, la potenza è 0,5 di Joule, e la città da salire intorno ai 35 metri. Notare le scritte incise anche sulla parte superiore. Ottime rifiniture, peso intorno ai 550 grammi. Ben abitato, materiali di elevato standard qualitativo. Al suo interno troviamo un centinaio di colpi, di tipo leggero, ma può sparare sia il tipo leggero che il tipo pesante, da 0,20 di grammo.